bella ragazzi io sono mazimus e oggi ragazzi siamo tornati su rovery bob un episodio intorno le due e mezza le tre e un episodio alle cinque andiamo a fare c'erano rimasti gli ultimi due livelli questo livello è impossibile allora se non vi ricordate che cos'è sto gioco andato per aver oh schifo ragazzi a certe volte non parlo perché mi sto contando no non lo sapevo che si girava di qua mi sapevo che si girava devo comprare qualcosa mentre stavo registrando un video di fortnite allora oh mio dio devo disattivare internet voi dovreste ancora non visto forse voi ancora non avete visto l'episodio forse sì molto probabilmente l'avete già visto il video numero uno che hai ok allora qua dentro abbiamo già finito porti più difficile a lui ora ciao ora che ce ne siamo tolti due tre passi continuiamo chi hai che se la porta aperta vengi sinistra c'è più tempo merda merda ok 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 ce la possiamo fare ci siamo che è Però se torno là, è meglio. Lui ci torrebbe in straniera perché c'è la porta aperta. Vede la porta aperta. Sì! 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 Sei minuti per il primo livello, ragazzi. Ah, che dolore alla mano! Ultimo livello del primo capitolo. Posso capire che abbiamo brogato tutto. Allora, non puoi fare l'ora, non puoi dargli una bella lezione. Ok, allora. Quindi ora, sono io contro di lui. Ah, lui gira con la casa. Ok. Ok. Oh, schifo! Non c'ho più corsa! Non so dove sono. Ok. Allora, non c'ho più corsa! Allora, non ho così! Madonna Allora ho capito Raga sto tremando Ok No ragazzi non capisco come si fa No ragazzi non capisco come se fa Sì, non è vero. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Ecco come si faceva. Sì, sì, sì. Ce l'ho fatta veramente. È difficilissimo. Ho bianco preso il primo capitolo. Oh mio Dio. Andiamo con i valili del secondo capitolo. La Madonna. No, cosa vuoi? No, ma cosa? Mi spiace rovinarti il zolato. Ma sì, non pensareci più. Ho la soluzione perfetta. Stavo preso da valeggiare questo appartimento. Ma sicuramente sarò visto dall'autore del cammino. Dai ragazzi, non te lo stavo chiedendo. Non ti ho fatta. No. Non ti ho fatta. Non ti ho fatta. Ma ecco. Non ti ho fatta. Mi spiace rovinarti i valgi. Non ti ho fatta. Ma ecco. un sacco di coso lasciato dietro però vabbè gelato di beef raga altri due livelli e poi basta perché raga c'ho un mal di testa a morire e poi oltretutto ci metto troppo e di caro stasare Ebbene che basta Sto concludendo ora Perché raga Vi spiego Questo gioco ci vuole molto Perché mi si rovina la grafica e la devo rifare Ti bruciano gli occhi Noi ci rivediamo al prossimo episodio Bella raga